L'assessore agli affari generali e commercio del comune di Pordenone, Bruno Zille, illustra le finalità del progetto PISUS, il piano integrato di sviluppo urbano e strategico. Le aree di interesse del piano riguardano interventi di riqualificazione, ristrutturazione e di rigenerazione urbana e sostegno alle piccole e medie industrie. L'amministrazione comunale di Pordenone intende portare avanti in base ai propri programmi un'attività per poter potenziare l'attrattività del centro storico. In questo senso si inserisce il piano regionale per l'utilizzo di fondi europei per quanto riguarda il PISUS, che è un piano integrato di sviluppo urbano sostenibile. In questo senso l'amministrazione sta portando avanti il progetto e questo lo sta facendo assieme a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a questo progetto. A tale proposito abbiamo emanato un bando che entro il 29 settembre potrà portare tutta una serie di idee progettuali che concorreranno nel progetto unico che andremo a presentare la regione. Speriamo di avere la possibilità di ottenere i finanziamenti e quindi poter dare a questa città tutti gli elementi per renderla più attrattiva. Gli estremi del bando sono reperibili presso l'ufficio SUAP, sportello unico per le attività produttive e sul sito www.comune.pordenone.it www.comune.pordenone.it